Amiche e amici di Antenna 2 TV, buonasera e vi ritrovate in una nuova puntata di Antenna 2 Sport e come sapete ogni martedì sera andiamo a raccontarvi quelle che sono le realtà sportive del nostro territorio i nostri atleti ma anche i grandi, grandissimi eventi che vengono organizzati ed è per questo che ho utilizzato questo grandissimi perché si tratta davvero di una grandissima manifestazione quella che si terrà a Gazzaniga l'11 di giugno, sto parlando della Bergen Mola Mia qui in studio con me ci sono gli organizzatori, i rappresentanti della Gazzanighese, dell'amministrazione comunale insomma siamo pronti a presentare in grande stile questo evento e quindi buonasera e ben ritrovato al Presidente della Gazzanighese Mauro Zinetti, buonasera Buonasera e grazie dell'invito al centro poi troviamo Elio Donini che un po' segue la parte della comunicazione del sito e tutto quello che ci sta dietro, buonasera buonasera a tutti grazie e poi anche il nostro Angelo Merici vice sindaco chiaramente di Gazzaniga che da sempre sostiene e rappresenta anche l'amministrazione comunale in questo contesto, buonasera Angelo buonasera allora iniziamo da te Mauro perché insomma anche quest'anno non avete voluto mancare questa grandissima manifestazione, Berghem Mola Mia, di che cosa si tratta per tutti gli amici a casa che magari non ne hanno mai sentito parlare ma anche se oggettivamente dubito si si tratta di una gara ciclistica, una gran fondo per la precisione dedicata al mondo cicloamatoriale una gran fondo un po' atipica nella sua originalità perché comporta tratti che i cicloamatori percorrono ad andatura cicloturistica alternati a tratti cronometrati in salita e alla fine insomma diventa una bellissima giornata di festa perché poi tra le altre cose al termine dei tratti cronometrati c'è sempre un ristoro che dà motivo al gruppo di amici di fermarsi quei dieci minuti, rifocillarsi, riprendere un po' le energie e poi riprendere l'attività appunto di la loro pedalata con il loro gruppo di amici una formula un po' nuova che sta riscuotendo un bellissimo successo e noi qui vediamo proprio alcune immagini che avete caricato anche sul vostro sito che è berghemmolamia.eu dove c'è chiaramente nel dettaglio tutto quello che si può sapere si deve sapere su questa manifestazione una manifestazione che è nata tre anni fa ormai questa è la quarta edizione proprio per essere un motivo di rinascita e questo è quello che ci accompagna anche con questo berghemmolamia questo nome così che viene affidato a questa manifestazione. Sì è vero nella primavera del 2020 quando eravamo costretti in casa a causa del lockdown la nostra associazione non si è data per vinta e volevamo il prima possibile rimettere in bicicletta prima di tutto i ragazzini della quale la gazzanigliese appunto fa parte e si occupa ma anche il mondo dei ciclamatori e quindi a settembre grazie al preziosissimo supporto poi dell'amministrazione comunale di Gazzaniga che ci ha agevolato con tutti i vari decreti gli spazi necessari siamo riusciti a mettere in pista la prima edizione della berghemmolamia che ha proprio nella sua originalità questa voglia di ripartire in un grandissimo momento di difficoltà che è stato quello del 2020. Facciamo anche un po' di numeri perché me li avete portati qui con questa bellissima edizione è la prima numero 1 del gennaio 2023 e qui ci sono addirittura poi tutti gli iscritti a quelle che sono state le edizioni 280 per quanto riguarda la prima edizione, 680 per la seconda edizione, 1322 per la terza edizione ecco qua che lo facciamo vedere anche al nostro Ricky così lo potete vedere anche a casa Mauro di cosa si tratta questa edizione, di questo piccolo giornale, piccola brochure? È un numero 1 ma immagino di una lunga serie Sì, abbiamo voluto creare in maniera un po' originale il nostro piccolo magazine che raccontasse la nostra piccola storia degli ultimi 4 anni e che quindi descrivesse lo spirito, da come è nata, la berghemmolamia descrive i percorsi che va a toccare ben 38 comuni della provincia di Bergamo e dal cumpaio della provincia di Brescia le valli praticamente della Bergamasca e vuole valorizzare essenzialmente il nostro territorio quello delle prealpi orobiche che è sicuramente incantevole perché consente al ciclo amatore di passare nel giro di mezz'ora dalla montagna, dalla presolana ai laghi bellissimi, il lago di Iseo e il lago di Endine ci sono dei contenuti anche turistici veramente molto interessanti che descriviamo su questo nostro magazine E allora se sei d'accordo io andrei con Elio Donini a descrivere anche quello che è un po' questo percorso perché voi ne avete creati ben tre il LONC, il MES e il CURT chiaramente insomma per dare spazio un po' a tutti Elio Sì, innanzitutto abbiamo cercato di dare dei nomi anche caratteristici del nostro territorio appunto berghemmolamia in dialetto e così i percorsi anche le categorie che partecipano a questa manifestazione sono divisi con parole dialettali I percorsi sono tre già dalla scorsa stagione e quest'anno volevamo riaffermare il medesimo standard e c'è per tutte le gambe insomma si va dai 75 chilometri del percorso CURT e quindi del corto che ha comunque in pancia 1200 metri di dislivello quindi è corto sì ma è abbastanza impegnativo e conta due cronometri quindi due tratti cronometrati da circa 850-860 metri di dislivello entrambi e tocca le due salite, tra le due salite più famose della Bergamasca il famoso Selvino con tutti i suoi tornanti il passo Zambla e poi tutti scenderanno in picchiata verso la Val Seriana i percorsi si dividono e abbiamo un percorso quindi Mezz e Lonk che si trasferiscono verso Clusone il Mezz sono 115 chilometri e oltre 2000 metri di dislivello fino ad arrivare al percorso lungo appunto il Lonk che sono 185 chilometri e sono 3200-3300 metri di dislivello e si arriva a Sua Maestà la Presolana per poi scendere e toccare tutta la Val di Scalve fare tutta la Via Mala e arrivare di nuovo ai laghi insomma secondo me chi partecipa a una manifestazione del genere vede proprio tutto quello che è la Bergamasca insomma effettivamente anche quello che c'è da vedere in questi comuni che insomma abbiamo citato ma in queste tappe così particolari che abbiamo citato effettivamente è bello anche solo stare in auto pensate un po' in bici in questa Gran Fondo comunque sì c'è il cronometro è una gara ma insomma è una gara adatta davvero a tutti immagino che avrete predisposto ristori e luoghi di tranquillità anche per tutti sì la manifestazione vuole proprio questa vuole far vivere un'esperienza di una giornata di festa una giornata in amicizia in compagnia dove sì c'è la competizione ma è relegata un po' in secondo piano noi per come è nata la manifestazione preferiamo l'aggregazione e per poter aggregare tutte queste persone che partecipano abbiamo pensato di gestire i ristori in modo tale da fermare le persone al ristoro non annoiarle e quindi ci saranno concerti, musicisti, dj, spettacoli quando vi ho detto intrattenere a tutti gli effetti anche chi partecipa mi riferivo poi a questo esattamente quindi anche spettacoli sempre a carattere sportivo anche di grande livello adesso non voglio poi spoilerare non svegliamo troppo non svegliamo troppo però ecco chi viene chi verrà avrà modo di vederli questi ristori che dove non manca nulla ecco c'è un'attenzione particolare poi verso bevande dagli integratori abbiamo un responsabile apposito per questo settore il Luca Rebba che si occupa tutta di questa di questa parte quindi in maniera attenzione anche agli allergeni attenzione poi non mancheranno anche magari un bicchierino di birra se serve insomma se serve per pedalare va bene anche quella allora un'ultima cosa velocissimamente perché insomma qui ci sono davvero dei dati importanti che sono quelli delle chiusure al traffico perché è una gara completamente in sicurezza è un percorso ciclomatoriale completamente in sicurezza in tutti questi comuni la strada è chiusa e soprattutto ci saranno oltre 250 persone che presideranno tutto quello che è il percorso sì beh il percorso è presidiato da 400 persone ben 400 persone di cui un centinaio in divisa ed è una delle parti più importanti della manifestazione ovviamente se ne occupa Mauro qui di fianco a me quindi sicuramente ha più dati di me in merito ma comunque 100 persone in divisa significa garantire una certa sicurezza significa garantire un'ora di fermo traffico e la gente se non si sente sicura non si diverte Mauro immagino che sia stata e sia la parte più difficile da organizzare sì il principio è questo se la gente non è sicura non si diverte ovviamente toccando 38 comuni come ho detto prima mediamente impegniamo una decina di persone per comune le persone in divisa sono i numeri che ha detto Elio è una parte veramente molto impegnativa che poi nelle nostre va integrata poi anche nelle nostre valli ok chiudere la strada per un'ora dobbiamo chiedere la pazienza degli utenti della strada sappiamo che la valle seriana specialmente la zona di Ponte Nossa non ha vie alternative quindi ci portiamo avanti con un paio di mesi di anticipo chiedendo venia e comunque chiedendo la pazienza degli utenti della strada avvisiamo la popolazione con un paio di settimane prima con la fissione di alcuni cartelli lungo le varie strade la sicurezza è importantissimo per poter accogliere al meglio speriamo più di mille partecipanti ancora quest'anno e insomma poi direremo anche tutte le credenziali proprio per iscrivervi a questa giornata speciale che è a partenza e arrivo in quel di Gazzaniga che per due giorni o forse più diventa insomma la capitale della Gran Fondo e delle bici in generale ma tutt'al più si organizza con eventi straordinari ricordo l'anno scorso una notte dedicata ai commercianti insomma una Gazzaniga che cambia completamente volto Angelo Merici assolutamente sì ad accompagnare la manifestazione sportiva ci sarà la serata della Notte Gialla un momento festoso particolarmente bello perché va a coinvolgere in questo momento non solo gli sportivi ma le famiglie i più piccoli gli anziani gente che magari non pedala più perché per vari motivi non ce la fa viene coinvolta con questo bel momento di festa ci sono concerti ci sono momenti espositivi espositivi tecnici ciclistici ma anche luoghi più ludico attrattivi cibo mille profumi mille colori Gazzaniga si fa veramente bella si mette il vestito da sera per la Notte Gialla anche quest'anno avete già organizzato insomma la Notte Gialla per quanto riguarda i commercianti che a questo punto immagino che sia il 10 di giugno esattamente il 10 di giugno qui commercianti ci stiamo organizzando in questi giorni si stanno definendo un po' gli eventi collaterali tutto sempre con la regia dei nostri amici della Gazzanighese una sinergia importante con la società sportiva Gazzanighese in questo in questo frangente particolare ma con tutti i commercianti e con un sacco di volontari del paese che si mettono si mettono in gioco gli alpini piuttosto che l'associazione carabinieri ma chi più ne ha ne metta nel senso non vogliono neanche star qua a pensarli tutti rischiando di non citarli tutti perché è veramente una comunità che si muove direi all'unisono e insomma l'amministrazione comunale che sostiene questa iniziativa sostiene la Gazzanighese e a tutti gli effetti insomma questo può diventare anche una tradizione di Gazzanighese perché pian piano si va avanti negli anni ma insomma se non dovesse esserci questa Bergamo la mia adesso mancherebbe qualcosa a Gazzanighese assolutamente sì la speranza è stata subito magari non dalla prima ma dalla seconda edizione che questa diventasse una bella tradizione per Gazzaniga per le nostre valli perché veramente questo può essere un grande incentivo al turismo al turismo un po' lento un turismo che ha voglia di fermarsi nei luoghi di vederli di conoscerli di avvicinarsi con un attimo magari anche fugace mangiando un panino bevendo una birretta come si diceva prima perché non vuole essere la competizione estremizzata ma vuole essere come si diceva un bel momento di aggregazione che copre due giornate intero un weekend sei pronto a salire in sela alla bici Angelo? accidenti su quello magari sono più pronto a cose un pochino più operative lasciamo fare a Elio e Mauro alla bici ai professionisti del ciclismo io vado velocemente da Mauro perché dobbiamo dire una cosa che in questi anni non abbiamo detto che sono i colori della Bergamo la mia io l'ho letto qui sul vostro Olfoi in questo momento che è una cosa davvero bellissima avete scelto due colori a rappresentare questa manifestazione che sono il nero e il giallo lascio dire a te la motivazione e soprattutto dobbiamo citare anche Rita e Paola sì l'evento è nato grazie all'idea di Rita e Paola Rita è la segretaria della ciclistica gazzanichese Paola è mia moglie e in quel periodo anche la nostra associazione è stata colpita da motivi di lutto perché abbiamo perso causa covid alcuni nostri associati e quindi abbiamo deciso di ricordare questo evento con il colore nero in segno di cordoglio verso le persone che comunque a Bergamo sono mancate ed il giallo che si rifà un po' a color oro giallo che è il colore dell'araba fenice che rinasce dalle ceneri e che quindi ha voglia di vivere la propria vita nonostante le difficoltà questi sono i motivi dei due colori del nero e del giallo e tutto questo in un giorno particolare il giorno di Atalanta-Valencia in questo rito Valencia-Atalanta in questo ritorno di Champions League così lanciamo un messaggio anche a mister Gasperini che magari lui che è uno sportivo finisce il campionato il 4 magari lungi c'è ancora la voglia di venire a trovarvi ci piacerebbe averlo con noi perché il Mola Mia è stato ispirato da quando i giocatori hanno vinto questa partita in Champions League a Valencia i giocatori dell'Atalanta hanno mostrato questa t-shirt con Bergamo Mola Mia e poi nelle nostre serate era tutto in video call perché non ci si poteva incontrare quindi facevamo tutte con le chiamate e quant'altro e nel giro di 15-20 giorni abbiamo fatto nascere questo nome che è stato Bergamo Mola Mia e che adesso da 4 anni portiamo avanti e vi accompagna insomma in questo evento davvero di due giorni ormai in quel di Galzaniga 10 e 11 giugno lo ricordo allora lascio a Elio Donini invece l'ultimissimo lo spot come iscriversi e perché venire perché venire è abbastanza evidente probabilmente siamo i migliori sul panorama no perché venire perché è una giornata di festa perché si passa una una domenica diversa rispetto alle solite corse dove dove si guarda l'orologio e basta e poi perché insomma i numeri parlano da sé cioè ogni anno abbiamo raddoppiato e questo da intendere che la gente apprezza e siamo sulla strada giusta l'iscrizione viene fatta su un sito specializzato che è il sito della Endu basta andare su www.bergamolamia.eu in alto a destra trovate il pulsante iscriviti e si viene deviati sul sito della Endu dove c'è tutto l'iter di iscrizione classico che normalmente si fanno ormai tutte le iscrizioni sono online quindi bergamolamia.eu lì per iscrivervi lì per partecipare a una giornata speciale diversa una competizione anche amatoriale ma insomma ha un gran fondo davvero da vivere in tutta la nostra valle e non solo anche perché da Selvino si arriva a Dezzo di Scalve e sul lago di Seo quindi insomma davvero si toccano le parti migliori anche della nostra provincia io devo ringraziare Mauro Zinetti Elio Donini e Angelo Merici in bocca al lupo a voi mi raccomando iscrivetevi loro vi aspettano erano 1322 lo scorso anno insomma ve ne auguro almeno 1500 anche perché poi c'è tutta una notte gialla da vivere in bocca al lupo ancora a voi invece voi rimanete con noi seduti comodi perché dopo la pubblicità è il tempo di un nuovo sport eccoci di nuovo in onda con Antenna 2 Sport ed è tempo di parlare di un'altra realtà sportiva del nostro territorio vado subito a presentarvi anche perché so che ci sono due atleti davvero molto emozionati anzi poi andremo anche a conoscere e far parlare anche loro sto parlando del Judo Club Clusone con la loro istruttrice Flavia Paganesti buonasera e ben ritrovati grazie mille dell'invito hai portato con te due atleti questa volta quest'anno meno male insomma è un piacere averli qui con noi in studio sto parlando di Barbara Loconson e Rocco Zanotti buonasera ragazzi buonasera vedo anche le medaglie poi mi racconti tutto Rocco sei pronto? sì sì ok invece inizio da te Flavia insomma tu sei un po' la colonna portante del Judo Club Clusone per tutti gli amici a casa che ci stanno seguendo ci racconti qualcosa in più di voi quanti siete dove vi allenate cosa fate ho visto quando avete visto abbiamo il nostro timer usate il timer anche nelle gare quindi insomma raccontaci qualcosa in più anche del Judo in sé siamo abituati a vedere il cronometro perché ovviamente le gare di Judo funzionano col tempo quindi è una cosa a noi familiare a parte gli scherzi buonasera a tutti siamo del Judo Clusone io sono l'istruttrice insieme a mio papà del Judo Club ormai è una realtà che penso in tanti conoscono perché è a Clusone da più di 50 anni e allora siamo alla palestra delle scuole medie e niente quest'anno abbiamo veramente tantissimi bambini che si sono approcciati alla nostra disciplina e ci fa tanto piacere perché finché si divertono è la cosa principale per noi infatti qua abbiamo tanti piccolissimi dopo il periodo appunto della pandemia il gruppo degli agonisti si è un po' disfato nel senso che c'è sempre il gruppo però tanti ragazzi hanno deciso di non continuare a farle gare e quindi stiamo crescendo tutti questi nuovi cuccioli ragazzi che vedi qua sono tutte le gare che abbiamo fatto recentemente con degli ottimi risultati quindi siamo veramente contenti di questo vedo anche il sorriso la luce anche nei tuoi occhi mentre mi racconti insomma anche di quello che sono state stata la crescita anche di questa realtà e quando ti ho contattata per invitarti e tornare proprio qui ad Antena 2 Sport mi hai detto abbiamo anche i bambini piccolissimi iniziano addirittura da quattro anni assolutamente sì è un gioco perché basiamo tutto sul gioco quindi si divertono imparano a rotolare sulla materassina a saltare a relazionarsi ovviamente con gli altri loro compagni e quindi sicuramente vederli divertirsi ci fa tantissimo piacere e qui hai portato a rappresentanza di tutti gli atleti che sono davvero tanti li avete visti anche nelle foto che il nostro Felix vi ha mostrando ci hai portato due atleti ce li vuoi presentare tu e poi andiamo a far parlare allora abbiamo sicuramente se avessimo potuto portare tutti i bambini tutti tutti sarebbero avremmo riempito lo studio sì però allora Barbara sicuramente la nostra atleta più rappresentativa per quanto riguarda la classe cadette infatti recentemente è andata a fare i campionati dopo una gara bellissima di qualifica poi la racconterà lei è andata a fare i campionati italiani a Taranto e invece Rocco che ha iniziato non da tantissimo però si è approcciato benissimo gli piace poi anche lui ci racconterà bene però gli piace fare judo è iniziato subito a fare gare e sicuramente nelle gare non è così timido quindi sembra molto timido nelle gare molto grintoso e quindi infatti ha vinto tantissime gare e il nostro orgoglio e ci ha portato anche le medaglie questa sera non vedo l'ora di andare anche a conoscere Rocco ma Barbara inizio da te innanzitutto quanti anni hai e da dove vieni? allora ho 15 anni e vengo da Albino da Albino quindi da Albino Clusone è già una bella trasferta come hai conosciuto il judo club Clusone? allora inizialmente Flavia non insegnava a Clusone ancora con suo padre e infatti insegnava a Casnigo e inizialmente andavamo là ha iniziato prima mio fratello e io ho seguito le sue urme perché mi interessava e poi man mano abbiamo continuato ad allenarci con Flavia e quando si è trasferita a Clusone l'abbiamo seguita l'avete seguita e quindi insomma è un onore vedi da Albino faccio scomodare tutte le sere le famiglie da Albino che portano i ragazzi quindi no è un orgoglio è bella anche la vicinanza poi dalla famiglia che sostiene anche lo sport dei figli anche con i sacrifici perché sono davvero tante le famiglie che si improvvisano taxisti per i loro figli chiaramente in settimana per tutti quegli allenamenti Barbara mi hai detto che insomma hai iniziato perché hai seguito le urme di tuo fratello ma perché ti piace così tanto il judo c'è qualcosa in particolare che ti aveva colpito? allora da piccolina era divertente comunque andare lì in palestra giocare con gli amici rotolare giocare tra di noi e nel frattempo imparavamo comunque come difenderci come approcciarci con gli altri e così via poi man mano che sono cresciuta l'ho trovato utile comunque nel senso come persona come formazione personale e mi ha aiutato anche diciamo a tenere lontane le persone un po' più diciamo non cattive però che comunque aggressive esatto e quindi insomma è un modo anche per sentirsi sicura immagino che insomma anche a questa età nell'età dell'adolescenza così è un fattore davvero molto importante quante volte ti alleni a settimana? allora inizialmente facevamo quattro allenamenti sia a Closone che da Ardeseo però per via della pandemia e del Covid sono diventati due e ogni tanto melleno anche a casa qualche corsetta qua e là beh insomma però comincia a diventare un impegno importante chiaramente poi mercoledì abbiamo gli intercentri in regione poi sabato e domenica le gare esatto nel senso tutta settimana comunque siamo impegnati e anche lunedì perché quando è andata in trasferta sono partiti il venerdì sono tornati lunedì quindi comunque è un impegno non indifferente e diciamo che lei anche a scuola non sempre però i ragazzi vengono capiti cioè secondo me lo sport li aiuta soprattutto perché non sono in mezzo alla strada si allenano sai dove vanno sai quello che fanno sai l'impegno che ci mettono bisognerebbe anche magari aiutarli un po' cioè non dico chiudere un occhio perché se uno non che faccia la zero una scuola però se uno si impegna di venirgli un po' incontro perché si impegnano veramente tanto e questo è un messaggio che chiaramente lanciamo anche alla scuola al sistema scuola in generale non tanto agli insegnanti ma proprio per di aiutarli un po' di venire un po' proprio all'attività di questi ragazzi questa è una tua gara Barbara sì e so che recentemente sei stata anche ai campionati italiani ci racconti qual è stato il momento più bello di questa stagione immagino che i campionati italiani si sono arrivati da una super gara di qualificazione che forse quella rappresenta la gara della stagione sì è stata come anche detto da Flavia da un altro nostro da un altro allenatore che mi ha accompagnato lui in quella gara ha detto che sono stata molto grintosa e comunque anche io mi sentivo in forma quella giornata e mi sono anche divertita e quindi dove era questa gara di qualificazione? era Codogno Lodi ha fatto tre incontri è stata bravissima le ha vinti tutti per Ippon che noi come vediamo dalle immagini adesso Ippon vuol dire proprio una schienata netta e dopodiché o si conclude l'incontro oppure si può continuare a terra se non è proprio Ippon ma vazzari sono dei punteggi tecnici però vuol dire che è stato un bel judo quindi è una soddisfazione assolutamente quindi sei riuscita a stendere sempre l'avversario nel modo migliore questa insomma è la regola del gioco se possiamo definirla così hai qualche obiettivo per il futuro magari partecipare ancora ai campionati italiani non so c'è qualcosa che ti sei prefissata? di sicuro prenderla a cintura nera prima o tardi in qualche modo riuscirò a prenderla non sono sicura o collegare oppure col catà però comunque è quello il mio obiettivo principale quello chiaramente resta l'obiettivo anche perché poi una volta assegnata non te la toglie più nessuno adesso che colore sei? adesso sono cintura marrone quella prima esatto manca solo un piccolo step in bocca al lupo Barbara anche per questa cintura che arriverà spero spero presto e io vado a conoscere Rocco Zanotti con le sue medaglie al collo quanti anni hai da dove vieni Rocco? io mi chiamo Rocco Zanotti ho otto anni e vengo da Clusone da Clusone quindi giochi in casa tu vai a piedi in palestra sì sì vai alla palestra delle scuole medie e lì ti alleni quante volte a settimana? mi alleno due volte con i miei compagni è divertente? sì ed è molto divertente perché conosco nuovi nuovi miei amici e nuovi bambini faccio nuove conoscenze e questo è sempre bello quando si sta insieme poi se ci sono bambini nuovi quelli che non incontri anche a scuola in classe insomma è sempre divertente divertente questa sera hai portato due medaglie che cosa hai vinto lì? allora nella prima sono andato al primo campionato provinciale nella prima prova e sono arrivato primo ho fatto sei cioè cinque incontri incontri ne ho vinti quattro e ne ho perso uno caspita quindi un bellissimo risultato e sono arrivati i secondi in classifica poi nell'altra è la seconda prova del campionato Bergamasco Bergamasco sempre del CSI sempre del CSI provinciale anche questo seconda prova sono arrivato primo ho fatto cinque incontri e li ho vinti tutti cinque è stato bravissimo un play insomma di tutti gli incontri e questo sei tu che gareggi questo è un tuo video? sì e anche tu sei riuscito a stendere i tuoi avversari ma qual è il tuo punto di forza? sei rapidissimo sei veloce il mio punto di forza è che sono molto leggero e sono molto più veloci degli altri quindi potrei fare le tecniche molto più veloce degli altri quindi se uno mi fa una tecnica io posso schivarle e farne un'altra bravissima anche intelligente bravissima perché è proprio il principio del judo se uno ti spinge non lo spingi ma lo tiri e quindi ha applicato esattamente le spiegazioni assolutamente tu che cintura sei? sono una cintura bianca e qual è il prossimo colore? il prossimo colore è o cintura gialla o bianca gialla e quale vorresti tu? gialla quella gialla quanto manca? prendi proprio quanto manca? mancano due giorni tre venerdì venerdì abbiamo la festa delle cinture ci hai preso proprio guarda avremo l'onore di avere il sindaco che viene da noi e gli assessori e quindi è una super festa che stiamo organizzando e tutti i bambini attendono con ansia perché dopo un anno della loro cintura avviene il passaggio appunto di grado e quindi sono tutti agitati e fremono per cambiarla quindi ancora però non sai che cintura ti verrà assegnata? non lo so ovviamente è una sorpresa però è bravo quindi di solito ci sono cintura bianca bianca gialla gialla i vari passaggi se qualcuno è più bravo salta alcuni passaggi intermedi questo a discrezione del maestro quindi chissà chissà che cintura ti verrà assegnata in bocca al lupo allora per questa giornata speciale di venerdì per la consegna appunto delle cinture e fra via c'è un sacco di entusiasmo questo mi piace mi piace tantissimo proprio per troppo no per questa passione che riuscite anche a trasmettere a questi ragazzi è una passione che si vede si legge anche in questi racconti credo che che sia davvero un complimento speciale qui ci sono anche tutti gli altri che non abbiamo potuto ospitare in studio assolutamente sì il gruppo dei piccoli il gruppo dei più grandi calcola che all'ultima prova provinciale eravamo in 24 bambini quindi solo del cioè veramente tanti per essere appunto ancora comunque all'inizio del campionato e quindi è una grande soddisfazione questa è la festa delle cinture dell'anno scorso e niente qua alcuni miei momenti dell'epoca ormai i momenti passati anche perché ricordi ricordi dobbiamo ricordare che tu sei stata davvero una grande campionessa di questa disciplina eh sì è bello ogni tanto rivederli e basta vanno bene come ricordi adesso si guarda oltre e cerchiamo di trasmettere quelli che sono stati appunto gli insegnamenti che ho ricevuto io anche a loro che sicuramente mi hanno portato sulla buona strada abbiamo però un appello da fare in chiusura di questa chiacchierata insieme ai tuoi ragazzi insieme a tutto il gruppo del Judo Club Ecclusone un appello agli sponsor allora il solito appello no più che altro che è bello vedere tutti i gruppi che hanno la divisa le tute e noi siamo ancora alla ricerca di sponsor perché il Judo ovviamente è uno sport minore poco pubblicizzato e quindi dobbiamo sempre andare a bussare a qualche porta e non sempre ci aprono e quindi il nostro prossimo obiettivo è rifare le tute in modo che tutti i bambini possano averle in modo che comunque quando andiamo a legare rappresentiamo il gruppo del Judo Club Ecclusone e quindi questo sarebbe il nostro prossimo obiettivo ecco di fare gruppo perché i bambini se lo meritano assolutamente se lo merita anche questo gruppo storico ormai più di 50 anni sì abbiamo fatto nel 2020 il cinquantesimo quindi 53 anni 53 anni di storia per il Judo Club Ecclusone ma per tutti gli amici a casa che magari anche hanno visto queste immagini insomma vogliono provare anche questa disciplina cosa devono fare dove vi possono trovare quando si possono iscrivere magari è una lezione di prova adesso non so assolutamente sì noi siamo il martedì e il venerdì alla palestra delle scuole medie a Clusone iniziamo i turni dalle 5 e mezza quindi 5 e mezza 6 e mezza i bambini che vanno dai 4 anni ai 6 anni 6, 7 poi si valuta dalle 6 e mezza alle 7 e mezza è il turno intermedio dagli 8, 12, 13 anni e dalle 7 e mezza alle 9 invece il turno dei ragazzi più grandi degli adulti e quindi noi noi siamo sempre lì martedì e il venerdì e ci possono fare le lezioni di prova e sicuramente se vengono vedono il nostro ambiente che non è solo Judo ma è anche tanto divertimento è bello di stare insieme ecco questo e oggi hanno saltato lezioni solo per noi per essere qui presenti ad Antenna Due Sport ha fatto allenamento e poi è venuto prima l'allenamento e poi la chiacchierata insieme ad Antenna Due Sport questo è il bello il rigore anche sempre e la disciplina in tutti gli sport grazie davvero al nostro Rocco Danotti in bocca al lupo a Barbara lo consono in bocca al lupo anche a te per tutte le tue gare importanti anche ai campionati italiani e soprattutto alla prossima cintura nera speriamo che arrivi presto e soprattutto a Flavia Paganesti e a tutto il team degli istruttori della Judo Club Clusoni in bocca al lupo davvero per tutti i vostri successi per il vostro sponsor e noi siamo sempre qui con le porte aperte pronti ad ospitarvi e raccontare ancora di voi grazie rimanete seduti comodi in portrona perché dopo la pubblicità abbiamo nuovi ospiti puntata ricca ricchissima di Antenna 2 Sport abbiamo lasciato il Judo per aprire le porte a un'altra realtà sportiva del nostro territorio del territorio di Clusone li vedete qui inquadrati dal nostro Riccardo hanno tutte le casacche blu dello Sciclub 13 Clusone sezione discesa perché dobbiamo parlare di loro perché quest'anno hanno vinto praticamente tutto anzi hanno davvero ottenuto risultati incredibili ma andiamo subito a presentarvi partendo dall'allenatore che si trova qui alla mia destra figlio del presidente Nicolò Giudici buonasera Nicolò ciao buonasera a tutti poi in mezzo abbiamo Simone Bondioli Anita Bonzi Giorgia Manini e in chiusura un altro degli allenatori Matteo Gobbi buonasera Matteo inizio da te Nicolò insomma siete tornati dal torneo più importante per quanto riguarda la categoria giovanile il Pinocchio la scorsa settimana ci racconti com'è andata quest'ultima gara ma soprattutto questa stagione incredibile sì siamo tornati settimana scorsa dal Pinocchio alla Betone la Betone è andata abbastanza bene ma il nostro piccolo abbiamo avuto qualche settimana prima dove abbiamo fatto i campionati italiani a Folgaria e lì siamo andati meglio nel senso che Anita è arrivata a seconda al campionato italiano di Slalom Simone è arrivato nel dodicesimo in Slalom e quindicesimo in ski cross e anche Anita lì è arrivata a quattordicesima ma anche gli altri bambini che erano presenti sono stati bravi e siamo molto contenti della stagione prima di arrivare agli italiani ancora Anita ha vinto i due titoli regionali che un giorno dopo l'altro è stata bravissima e Simone invece si è piazzato nei primi cinque in una gara e sesto nell'altra insomma quando vi avevo detto che c'erano dei risultati davvero importanti da elencare erano proprio questi già nelle categorie così giovanili riescono ad imporsi con possiamo dire questa facilità anche se immagino che sia frutto di tanto tantissimo allenamento e tanta dedizione che riuscite a donare a questi ragazzi sì loro si impegnano un sacco noi ci impegniamo tantissimo e niente sono risultati che danno morale a loro ma che però fanno parte di un percorso che sarà speriamo lungo e che deve essere di crescita per il loro futuro Nicolò insomma noi qui siete in cinque ma effettivamente dovevamo aprire le porte a tutto lo Sciclub 13 che ormai ha un numero incredibile di atleti possiamo dirlo sì siamo in tanti e ogni anno siamo sempre di più la squadra è sempre più più grande più agguerrita con tanto entusiasmo e niente è bello cosa insomma come mai hai scelto di farla l'allenatore di trasmettere anche questa passione perché insomma così giovane non è facile neanche trovarsi dall'altra parte ma perché niente facevo l'atleta è andata male diciamo nel senso che non ho raggiunto gli obiettivi che magari volevo raggiungere e poi è venuto di conseguenza ho studiato scienze motorie maestro di sci e poi sono arrivato a fare allenatore e poi con questi ragazzi quanto impegno e tempo dedichi quante volte a settimana vi allenate noi ci vediamo quattro volte a settimana di solito cioè più o meno loro vengono quattro volte nel durante la settimana poi ne facciamo cinque sei allenamenti a settimana e ognuno sceglie un po' i tre quattro allenamenti che riesce a far conciliare con la scuola insomma con la scuola gli altri impegni il catechismo insomma tutto quello che c'è insomma è un impegno davvero importante quello che dura durante la stagione invernale ma immagino che poi prosegua durante la stagione estiva sì durante l'estate fanno un po' di atletica i più piccoli meno i più grandi per sei mesi ancora atletica e poi facciamo anche lo sci estivo quindi a settembre iniziamo a mettere gli sci e stiamo via i weekend è impegnativo però hanno passione e vengono e vengono insomma questo è anche il dietro le quinte di quello che è un'organizzazione di uno sciclub importante del nostro territorio di Clusonem che riesce a coprire e radunare tantissimi atleti partendo dai più piccoli iniziamo a conoscerli Simone Bondioli da dove vieni quanti anni hai? vengo da Gazzaniga e ho 11 anni hai 11 anni insomma come mai hai scelto lo sci? chi ti ha portato per la prima volta per i sci? ti ricordi come mai hai scelto questo sport magari non il calcio? è perché mia mamma e mio papà facevano sci quindi ti hanno portato lì ti hanno portato proprio a Clusone sì sì e ti piace? sì raccontami un po' come è andata ai campionati italiani perché hai sfiorato il podio? agli italiani ai regionali sono arrivato quarto in gigante e in slalom sesto invece agli italiani dodicesimo in slalom e quindicesimo in ski cross e non è facile lo ski cross no non è facile a te piace? sì è quello che ti piace di più? no no cosa ti piace di più? qual è la disciplina che ti piace di più? gigante il gigante e quante volte a settimana riesci ad allenarti tu con la scuola tutti i tuoi impegni? quattro volte quattro volte sono tante quattro volte sì dove è andata ad allenarvi di solito? pora spiazzi cambia insomma a seconda dei giorni sì e la gara più bella che hai fatto quella che ricordi qual è? ce n'è una in particolare? l'italiano di slalom l'italiano di slalom quello è stato speciale per quale motivo? perché c'erano tanti bambini iscritti tanti ragazzi no perché non me l'aspettavo di avere quel risultato e quindi insomma anche sorpreso da questo risultato mamma papà cosa hanno detto di quel risultato lì? contenti? sì tutti contenti e adesso c'è qualcosa che sogni per te c'è un desiderio che hai sugli sci che vorresti ottenere? no no l'importante è continuare a sciare esatto esatto va bene va bene in bocca al lupo Simone vado a conoscere al centro proprio Anita Bonzi che sei un po' la punta di diamanti di questa categoria pulcini dello Sciclub 13 ci racconti quanti anni hai anche tu da dove vieni e soprattutto quante vittorie quanti successi che hai ottenuto quest'anno allora vengo da Alzano e ho 12 anni e non so quanti c'è quante vittorie ho fatto perché non sto di a contarle insomma sono talmente tante che non le conti più insomma non le ho mai contate non le hai contate però è stata una stagione importante bella sì cioè è stata la mia più bella stagione quest'anno e cioè è andata bene non mi aspettavo così bene agli italiani perché l'anno scorso ero arrivata ottava e quest'anno seconda e sono andata benissimo secondo me e e qual è la disciplina che preferisci slalom slalom tu sei più tra le curve fare queste non hai paura di paletti perché io ho sempre ho sempre il timore di schiantarmi di farmi male quando no ormai sei allenata sì ho imparato bene hai imparato bene è stato bravo Nicolò sì è un bravo allenatore sì possiamo dire tutto non ti sente quante volte ti alleni a settimana quattro volte a settimana quattro però da Alzano comincia a diventare impegnativo anche il trasporto sì però c'è il pulmino e quindi è più facile bastano a prenderti sì e quindi insomma è più facile riesci a a non pesare anche su mamma e papà perché hai scelto lo Sciclub 13 Ciclusone come l'hai conosciuto perché prima quando ero Super Baby 2 ho iniziato a sciare nello Sciclub Orezzo e c'era la mia allenatrice Laura Parigi che quando si è sciolto è andata nel Sciclub 13 Ciclusone e quindi sono andata e quindi l'hai seguita insomma hai seguito anche la tua insegnante per te c'è qualcosa che sogni che hai un desiderio che hai per quanto riguarda il tuo sport da grande vorrei andare in Coppa del Mondo insomma hai un idolo cioè chi è? Michaela Schifrin caspita una super campionessa l'hai già incontrata magari in qualche gara obiettivo per il prossimo anno almeno incontrarla e far la foto con lei vorrei tanto vorrei chissà chissà magari anche per Milano Cortina 2026 se avremo tutti la possibilità di andare a seguire anche queste gare potrai magari incontrarla ma spero anche prima del 2026 chiaramente andiamo a conoscere Giorgia Manini buonasera Giorgia anche per te quanti anni hai da dove vieni insomma raccontaci un po' di questa stagione buonasera ho 20 anni sono di Clusone quest'anno è stata una stagione con alti e bassi diciamo che è iniziata abbastanza bene qualche gara è andata un po' peggio però comunque non manca mai l'impegno e la voglia di fare comunque quest'anno è stata comunque una bella stagione una bellissima stagione che ho potuto passare con tutto il gruppo tutto il gruppo completo e sono molto contenta perché comunque è bello passare del tempo e fare le gare con un bel gruppo quindi mi sono divertita molto e diciamo che sono abbastanza contenta dei risultati tu sei della categoria giovani quanti siete ci parli un po' di questo gruppo insomma che poi andremo a sentire anche l'allenatore Matteo Gobbi che poi ci racconterà anche nel dettaglio quante volte ve l'allenate che tipo di competizioni fate ma insomma ci parli di questo gruppo quanti siete se c'è una componente anche maschile che gare fate allora siamo in 13 partecipiamo al circuito di Ski Race Cup i maschi purtroppo sono solo due l'appello facciamo ci sono 11 ragazze che attendono qualche maschio o gareggiare anche solo per l'allenamento no intendevo semplicemente di solito quando c'è più componente maschile in un gruppo all'interno dello Ski Club diciamo è più bello perché si riesce a avere più confronto si riesce a darsi più forza tra le ragazze perché essendo che magari vanno più forti i maschi ti danno più motivazione ti danno quella spinta in più a far meglio e ci siamo abbiamo dato parte al circuito di Ski Race e quest'anno ho fatto anche un paio di gare nel circuito FIS che sono andate discretamente l'importante è continuare a fare attività sportiva attività fisica 20 anni immagino che tra studio lavoro attività varie non sia facile poi conciliare tutto esatto esatto comunque rimane sempre il fatto che appunto lo Ski aiuta comunque tanto a staccare la mente e quindi ecco quante volte a settimana ti alleni circa 5-6 volte a settimana praticamente tutti i giorni tranne 1-2 giusto perché sì esatto riesco a allenarmi comunque molto grazie anche ai miei genitori che mi hanno permesso di fare una scuola che mi venisse incontro per dare più tempo allo Ski che scuola fai? abbiamo raccontato tutto di te no faccio il turistico però ecco una scuola che mi viene incontro con con questo sport con questo sport e questo è importante insomma anche il sostegno della scuola ne abbiamo parlato anche nel corso proprio di questa trasmissione in questo caso ecco sono vicini chiaramente a Giorgia Manini anche per te un desiderio che hai per quanto riguarda il tuo sport e poi vado a conoscere il tuo allenatore allora diciamo che ho avuto modo di rendere più chiare le mie idee in questi ultimi anni di Ski e quest'anno vorrei intraprendere il corso di formazione per diventare maestra di Ski e mi piacerebbe molto poter fare questo tipo di lavoro per continuare a fare anche questo sport che ritengo appunto sia bellissimo e ritengo che fare maestro di Ski sia uno dei lavori secondo me più belli e mi piacerebbe molto poter fare la maestra di Ski all'estero quindi riuscire a migliorare le lingue e avere diciamo una clientela estera è un bel sogno anche per unire poi anche il tuo percorso di studi col turistico insomma arricchire anche quella che è la conoscenza personale grazie in bocca al lupo a te Giorgia anche per questo importante obiettivo che insomma ti sei data anche per il futuro e vado da Matteo Gobbi che è l'allenatore proprio di questi giovani di questi 13 ragazzi dello Ski Club 13 e anche a farlo apposta ci racconti qualcosa di loro ma soprattutto ci racconti anche qualcosa di te perché insomma come vale per Nicolò siete giovani che vi mettete a disposizione di altri giovani di altri ragazzi sì sono l'allenatore per quest'anno della categoria giovani appunto questo gruppo di 13 ragazzi composto da 11 ragazzi e 2 ragazzi che quest'anno ci stanno dando tante soddisfazioni partecipiamo al circuito delle Ski Race che è un circuito di gara a livello regionale e nell'ultima tappa siamo riusciti a portare a casa anche il titolo regionale di Slalom appunto grazie a Giorgia Manini e abbiamo fatto il primo e il secondo grazie comunque anche a Giudice Elena che è riuscita anche lei a arrivare a seconda quindi abbiamo pronto l'oro e l'argento diciamo a livello regionale ecco sono arrivati anche i risultati sono arrivati anche i risultati faceva la timida a Giorgia ma effettivamente i risultati sono arrivati ci sono su tutto il gruppo quest'anno mi posso ritenere soddisfatto anche perché oltre alle gare abbiamo l'obiettivo anche delle delle selezioni appunto di arrivare al corso maestri e quest'anno su 13 a oggi 9 sono passati e quindi faranno il corso adesso abbiamo altre due in bilico è un po' una tua missione insomma accompagnarli anche per diventare sì sì è la fine di un percorso di gare durato appunto dalla loro età quando cominciano a avere 7-8 anni a arrivare fino ai 18-19 e quindi è la soddisfazione di poterli portare a fare anche oltre uno sport anche un lavoro una passione è bello è bello sono tutti di Clusone sono tutti della zona sì praticamente tutti tranne due ragazzi un po' più che uno della Martina che è giusto che è di Nembro e un altro ragazzo che è dalla zona di Brescia obiettivamente tutti di qua tutti di Clusone bello tutti i clusonesi almeno tutti della nostra valle esteriana Matteo ci racconti invece qualcosa qualcosa di te come mai hai scelto poi di fare allenatore magari qualcosa anche del tuo percorso da agonista io sono cresciuto nella zona nella valle inizio della valle Camonica diciamo nel Montecampione scisticamente ho avuto la fortuna di correre di essere in sci club con le fanchini e da lì è nata tanta passione purtroppo non avevamo i numeri per arrivare in alto però la passione è sempre stata tantissima l'obiettivo è sempre stato quello di arrivare poi a essere maestro di sci e poi ho avuto la fortuna di diventare anche allenatore in questa realtà che mi ha portato a togliermi grosse soddisfazioni per ora la soddisfazione più grande poi concludiamo direi che quest'anno quest'anno con il gruppo con loro che ho seguito dalla categoria precedente portarli comunque in selezione al compimento di un percorso alla fine di un percorso è stato diciamo questo è stato uno degli anni più belli immagino immagino grazie anche a Matteo Gobbi torno velocemente da Nicolò Giudici chiedendo al nostro Riccardo di spostare chiaramente l'inquadratura proprio su di lui perché insomma siamo arrivati a fine stagione è tempo di bilanci lo faccio fare a te insomma come concluderesti cosa che voto daresti alla stagione dello Sciclub 13 discesa in tutte le categorie e soprattutto se qualcuno fosse interessato almeno a partecipare anche alla parte estiva per poi prepararsi al meglio la parte invernale cosa deve fare? Io darei un voto darei un 9 perché un 10 secondo me non va mai dato nel senso che si può sempre far meglio si deve cercare sempre di far meglio e niente poi adesso iniziamo appunto con l'estate e niente le informazioni le possono trovare o su Instagram o ci sono i nostri contatti su Instagram di base e da lì possiamo dare informazioni a chi è interessato e basta poi in base all'età dei bambini dei ragazzi o delle ragazze sappiamo dire quale percorso abbiamo per loro insomma c'è posto per tutti dai tre hai dai tre hai dai tre hai indeterminato insomma si può sempre sciare insieme agli amici dello Sciclub 13 grazie mille per essere venuti qui a trovarvi in bocca al lupo per il vostro proseguo della carriera ma soprattutto complimenti per questa stagione per quello che avete ottenuto e riuscirete ad ottenere grazie davvero questo è Antenna 2 Sport vi ricordo che potete rivedere questa trasmissione sul nostro canale YouTube proprio dedicato ad Antenna 2 Sport un grazie particolare al nostro Riccardo al nostro Felix in regia e l'appuntamento come sempre innovato per il prossimo martedì sempre più puntuali sul canale 84 a partire dalle 21.30 e l'appuntamento a partire di un'appuntamento per il prossimo e l'appuntamento Grazie.